La nostra alimentazione ha a che fare con queste malattie così frequenti nel mondo ricco, nella civiltà occidentale. E quindi sappiamo benissimo cosa fare. Il problema è che è oggettivamente difficile ritornare a mangiare i cibi invece che le porcherie industriali. È oggettivamente difficile perché il mondo va in un'altra direzione, perché se devi mangiare fuori non hai chance, non hai la possibilità di trovare il cibo sano. Per cui bisogna aumentare la consapevolezza della gente, aumentare la richiesta in modo che anche i ristoratori si organizzino per offrire cereali integrali, legumi, verdure e frutta. Ed è molto sensato cibarsi prevalentemente di cibo vegetale.